Mister Amaolo, tutto pronto per il ritorno al Mariani Pavone? Domani contro il Perugia, un avversario di rango, una squadra difficile da affrontare. Sì, un giorno importante, finalmente ritorniamo al Mariani Pavone, che abbiamo visto ieri, è diventato un gioiellino, quindi avere una struttura di quel tipo nel territorio sicuramente è tanta roba. Per di più inauguriamo affrontando una squadra plassonata come il Perugia, una squadra importante costruita per fare la Serie B, poi non è stata ripescata ma ha mantenuto lo stesso organio, quindi mi aspetto una partita difficile e che dobbiamo interpretare al meglio le nostre possibilità. I numeri parlano chiaro, il Perugia è la terza forza del girone e ha la seconda miglior difesa dopo quella della Torres. State prendendo qualche accorgimento per cercare di scardinare le maglie di questa difesa così compatta? Quando incontri gli squadri di questa caratura sai che devi fare la prestazione importante per giocarcela contro un gancho così di spessore. Dobbiamo fare una partita importante su tutti gli aspetti, quindi dipenderà sempre da noi e dall'atteggiamento che avremo in campo contro una squadra importante. Mi auguro di affrontare questa squadra senza timore, però con massimo rispetto perché ci sarà da correre, da lottare, di giocare a ritmi alti, di far male quando mi auguro che capiterà, di soffrire perché avete visto il nostro percorso e i nostri risultati sono venuti fuori dopo tanta sofferenza. Quindi siamo consapevoli di questo e dobbiamo mettere queste componenti per fare un risultato importante contro una squadra secondo me fortissima che alla fine si giocherà la vittoria finale con il Cesena e con la Torso. Secondo il mio punto di vista sono queste le tre squadre più accreditate, più organici che hanno a disposizione. In grosso, Marafini, insomma come stanno? Baggi? Sì, ecco, hai detto tre giocatori che potrebbero essere dalla partita, stanno bene, hanno recuperato e di certo al centrocampo non abbiamo qualche assenza importante, qualche acciacchino. Ce l'abbiamo, però dobbiamo stringere i denti. Affrontare questa partita con gli uomini che abbiamo a disposizione in campo confido sempre in 15-16 giocatori che possono far parte della gara con la prestazione al di sopra le righe perché contro squadre di questo spessore deve fare prestazioni importanti.